Ben ritrovati dalla redazione di news24.city, Bari, Seu, morta bimba di due anni, originaria di Corato, avviate, indagini migliorano le condizioni della piccola francese. Otranto, sbarco di migranti, soccorse, 71 persone, tutte in buona salute, condotte al centro di accoglienza, Don Tonino Bello. Cerignola, contrasto al traffico di droga, arresti nel Foggiano, nella Bat, in manette, assuntori violenti e spacciatori. Taranto, violazione e ordinanza balneare, sgomberati, camper, intervento della Polizia di Stato, in località La Torretta. Melpignano, note della Taranta, attesi in 200.000 per il concertone del 26 agosto, controlli straordinari per la sicurezza, disposti bus e treni speciali. Andria Alvia, il ventunesimo festival internazionale Castel dei Mondi, eventi e spettacoli teatrali dal 25 agosto al 10 settembre.